I verbi posseggono tre forme verbali, attiva, passiva e riflessiva. Nella forma attiva il soggetto compie l'azione, il verbo generalmente è transitivo e l'azione può ricadere sull'oggetto qualora il complemento oggetto ci sia. Esempio, Silvia legge un libro, Silvia soggetto legge predicato verbale, un libro complemento oggetto. Nel caso in cui l'oggetto non ci sia, Silvia soggetto legge predicato verbale, punto. Ma la forma è sempre attiva perché Silvia compie l'azione di leggere. Nella forma passiva il soggetto invece subisce l'azione e può essere espresso anche chi compie l'azione, che diventa un complemento d'agente, o che cosa compie l'azione e diventa un complemento di causa efficiente. Ad esempio, il libro è letto da Silvia. Il libro, che prima era complemento oggetto, diventa il soggetto dell'azione, ma la subisce, non la fa più. È letto, predicato verbale, da chi? Da Silvia, complemento d'agente. Silvia, che prima era il soggetto, diventa complemento d'agente. Che cosa significa questa parola agente? Agente significa colui che agisce, colui che fa. Chi fa l'azione di leggere non è il libro, è Silvia. Però, siccome la forma verbale che viene utilizzata in questo caso è passiva, il soggetto non è più colui che fa l'azione, ma è colui che la subisce. E quindi i due elementi estremi della prima frase cambiano di posizione e cambiano anche di funzione all'interno della frase. Qualora l'azione sia compiuta non da un essere vivente, ma da una cosa, in questo caso colui o la cosa che compie l'azione non si chiama più complemento d'agente, ma si chiama complemento di causa efficiente. Ad esempio, una valanga travolge lo sciatore, poveretto, in questo caso avremo lo sciatore è travolto da una valanga, complemento di causa efficiente, perché la valanga è vero che si muove, ma è un essere inanimato. Passando alla forma riflessiva, e lo dice la parola stessa, l'azione del soggetto si ripercuote su se stesso. Però la forma riflessiva può avere più forme a proprio volta. Una forma propria, apparente, impropria o reciproca. La forma riflessiva ha forma propria quando l'azione del soggetto ricade direttamente sul soggetto. Ad esempio, io mi pettino, mi lavo, mi vesto, mi alzo. La particella pronominale, cioè in questo caso mi, ha la funzione di complemento oggetto. Io mi pettino, io soggetto, pettino, predicato verbale, mi, chi pettino io, me stesso. Quindi l'azione che io compio si ripercuote direttamente su di me. La forma impropria ha invece due aspetti diversi, apparente o reciproca. La forma apparente si ha quando l'azione del soggetto ricade sul soggetto ma non in modo diretto. Ad esempio, Marco si compra un giocattolo. In questo caso la particella si identifica Marco che compra un giocattolo a se stesso e quindi diventa un complemento di termine. La particella pronominale non ha più funzione di complemento oggetto ma funzione di complemento di termine. Quel giocattolo che Marco compra è per se stesso ma lo possono utilizzare anche altri. In questo caso invece, quando la forma riflessiva è propria, se io pettino me stesso, pettino me stesso e basta, non pettino altre persone. Chiaro? La forma, nella forma, la forma impropria può anche essere reciproca quando l'azione viene compiuta non da un soggetto solo ma da due soggetti che si scambiano l'azione vicendevolmente. Ad esempio, Marco e Giacomo si parlano. I soggetti sono due, Marco e Giacomo. Parlano a chi, di nuovo a funzione di complemento di termine, ma parlano se stessi. L'idea qual è? Marco parla con Giacomo e Giacomo parla con Marco, vale a dire l'azione che loro compiono è reciproca. Ci sono poi delle forme intransitive pronominali quando la particella pronominale è parte integrante del verbo. Ad esempio, io mi vergogno delle mie bugie, voce del verbo non vergognare se stessi, ma vergognarsi. In questo caso il verbo è vergognare, ma nella forma riflessiva aggiunge la particella pronominale al termine della desinenza, quindi avremo vergognarsi.